e continuiamo a sparare buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canale dance games qui alex and paladins got the new grand master con ancora victor si è mai presa di per fare due episodi di fila con victor giusto per vediamo un po chi c'è di là ok questi sono problemi mi preoccupa di più due in particolare ivy e drogos io tecnicamente dovrei controllare drogos però non lo so vabbè dai non vediamo un po se sei un po combattuta allora sempre con la nostra shrapnel deck che tanto come ogni santo episodio vi farò vedere alla fine tanti usano anche la burst mod infatti se voi vedete la burst mod ora questo è il deck vabbè spara così questo è buono per gli scudi però mi ci trovo male io andrei con la shrapnel così oddio è bugato si è bugato decisamente mamma mia giocare tutto l'episodio così saranno strazzi e devo andare per forza e trovo se staggeggio mi funziona ma odio non ho corto uno a random proprio non l'ho corto mezza volta non l'ho corto mezza volta cosa sta succedendo madonna oddio casinò questo è un casinò c'è pure l'overtime ma è difficile eccolo eccolo si 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 non ti preoccupa siamo ammazzati e io vi ho drogots il tempo su di me va bene dai succede dai va bene va bene va bene ho detto che era arco eh calli come muoio era scontata la cosa devo inventarmi una strategia la devo proprio inventar intanto andiamo a dire osserva tanto andiamo a dire osserva andare spilittati non serve a niente che stai vi qua è un intubo è impossibile i vi più drogots è impossibile stanno pushando male quando stanno balle si 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 come si fa? ma siete seri? siete seri veramente? siete seri veramente? si 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 devo trovare modo di ammazzare drogots si pensa che quella i vi rompa poglione si 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 No, è ingiocabile, è ingiocabile proprio Proprio ingiocabile Brava Io lo sapevo la mia cazzo fai No, no, vabbè Vabbè Ingiocabile proprio No, vabbè 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 Questo che succede Una macchina da guerra Una macchina da guerra È tosta questa Bisognerebbe prendere centro Vabbè 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 È la scontata questa È la scontata questa Io non è di breaker Così il cane se lo mette al culo e lo scudo Vediamo un po' Vediamo un po' cosa succede Vediamo un po' cosa succede Vabbè 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 Devo trovare in modo per ruttare l'arco, lo trovo. Vai. Merda. Dai 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 dai. Eh, sono morto. Lo sapevo. Vediamo di Moral Boost, dai. Mi serve. Mi serve il Moral Boost, è usciata fallita. Mi serve il Moral Boost. Dai, eh, potrebbe... ci si potrebbe fa' dai. Non è facile. Meno male, vabbè, da una parte. Ma ci si può fare. Per che altro ho? C'è quella Ivy, un incubo. Dai dai. Non tutti, sì. Kaboom, veloce. Solita tattica della bombetta. Ho chiappato. Eh, lo sapevo io, sì. Sì. Ci rendete conti in tre sono tutti arrivati. Enemies behind us. Ciao Enara. No. Tattica al zero, tanto sei indietro. Easy. Ah, davvero Ivy. Dai. Suca. Cazzo. Oh. Oh. Eh. Merda, eh. Mi sono cagliato. Ma vado di veste. No. Mamma mia. Un asse matto. Oh, oh, oh. Un asse matto. Forse posso solidar di qua. No. Davvero. Lol. Lol. Ha urtato me. Rido. Rido. Rido fortissimo. Una bella breaker. Ultimo round, eh sì. Una bella partitella. Partita male, però. Ci si poteva salvare qualche cosa. Oh. 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 No problem. Finger moral boost. Mamma mia, è broken. Loro le ultimate te l'hanno usate, però... Tutto sta se si prende o no. No. Aia. Stavolta ho missato. Perché so che venga da di qua. No. 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 Vimba Merda grande problema grandissimo problema no è persa, è persa purtroppo è persa peccato perché era una bella partita però succede dai era partita male, l'abbiamo raddrizzata solo che non ce l'abbiamo fatta poteva andare meglio come poteva andare peggio era partita molto male però vabbè dai capitano anche queste nel grandmaster ragazzi non si riesce ad andare a cosa 13-13 top damage can, can 133 la quinta can anche per il resto non hanno fatto tanto però vabbè succede dai non si può pretendere tanto comunque per Victor lo ripeto shrapnel e questo è il deck lo faccio un po' più veloce sui campioni che sono già usati così si evita comunque vabbè dai ragazzi non succede dai non era partita male poi l'abbiamo raddrizzata però capitano anche queste cose non c'è problema 4 let series che ci devi fare comunque vabbè dai ragazzi appuntamento di oggi finisce qua ci si vede col prossimo episodio del grandmaster un po' più veloce che ti vi fare che ti vi fare Grazie a tutti.